Il presidente dell'Associazione Imprenditori Vallodidiano e Confidi Vallodidiano, Valentino Di Brizzi, analizza in una lunga e dettagliata lettera i primi sei mesi dall'entrata in vigore della riforma del credito cooperativo. Un'analisi frutto della sua esperienza come imprenditore che vive e lavora in un'area interna e marginale dove il confronto umano è e resta alla base dei rapporti sia economici che sociali. Le nuove banche di credito cooperativo, nate come banche al servizio del territorio e di chi li vive, secondo l'analisi del presidente dell'AEV con l'applicazione della riforma hanno perso la loro fondamentale e utile caratteristica di sostegno delle piccole e medie imprese e di aiuto per le famiglie. Una perdita che i piccoli territori pagheranno a caro prezzo, secondo l'analisi di Valentino Di Brizzi, che potrebbero trovarsi costretti a ricorrere a forme di prestito pericolose. Una riforma che per il presidente dell'AEV e del Confidi mette le ganasce all'economia, bloccando di fatto ogni opportunità di crescita delle piccole e medie imprese. Il tessuto economico italiano, spiega Di Brizzi, si fonda quasi esclusivamente sulle piccole e medie imprese che costituiscono circa il 95% del settore imprenditoriale, attività che hanno da anni visto le banche locali come punto di riferimento e sostegno, banche che si sono distinte nella concessione di finanziamenti ed agevolazioni ad imprese e famiglie, riconoscendone importanze capacità personali e riuscendo nel contempo a ridurre i rischi. Nel territorio a sud di Salerno, continua Valentino Di Brizzi, l'esperienza maturata da ormai quasi 20 anni con il Confidi Vallo di Diano, nato con l'intendo di agevolare l'accesso al credito e di combattere il fenomeno dell'usura, conferma il grande supporto delle BCC locali che sono state sempre al nostro fianco ed a fianco delle imprese nostre associate, riuscendo a ridurre drasticamente il ricorso all'usura. Oggi però la riforma del credito cooperativo ha letteralmente cancellato il senso stesso delle BCC, asfaltando nelle caratteristiche di mutualità e territorialità e privandole di fatto dell'operatività e della flessibilità con cui operavano e che trovava forza soprattutto nel diretto e proficuo rapporto banca-cliente. Condivido appieno, continua Di Brizzi, il pensiero dell'amico Michele Albanese, direttore generale della Banca Montevruno, che nel suo scritto inviato ai rappresentanti del governo italiano, ha evidenziato come con queste nuove norme diventa oneroso concedere credito alle imprese. Bisogna rafforzare il tessuto imprenditoriale per far ripartire l'Italia, ma in che modo, si chiede il presidente del Live, paralizzando le BCC, ultimo baluardo amico delle piccole e medie imprese? Chi ha pensato a questa riforma? Ha davvero conoscenza del ruolo svolto sui territori dalle banche di credito cooperativo? E in ultimo mi chiedo, chi ha pensato a questa riforma? Ha anche immaginato quali potevano essere le forme di credito alternativo a cui sarebbero stati costretti a rivolgersi i piccoli imprenditori e gli artigiani per mandare avanti le loro attività? Ha immaginato, o anche solo ipotizzato, che la piccola difficoltà momentanea, spesso tamponata dalle banche locali, oggi possa indurre a rivolgersi al vicino di casa o all'amico che poi, magari, potrebbe non rivelarsi tanto amico? Credo proprio di no, asserisce Di Brizzi, oppure devo pensare che invece questa volontà a demandare ogni potere decisionale ad organi sovranazionali abbia un fine e questa finalità porterà nel tempo a smantellare tutto il sistema economico italiano che dalla sua nascita si è fondato su realtà politiche, imprenditoriali, territoriali, medio piccole e che negli anni sono stati la forza del nostro paese. Serve, conclude Valentino Di Brizzi, che si torni immediatamente a lavorare sulla riforma del credito cooperativo, altrimenti diventerà impensabile se non impossibile tornare indietro.